Torna l'ispettore Coliandro 7 con nuove indagini in esclusiva assoluta su Rai 2 Ecco le anticipazioni della nuova stagione con Gianpaolo Morelli che è grandissima attesa per i nuovissimi episodi dell'ispettore Coliandro 7 Da mercoledì 14 novembre torna, in prima serata e in prima visione su Rai 2, le avventure del poliziotto pasticcione e testarlo, ma con un innato senso della giustizia e della legalità, nato dalla penna di Carlo Lucarelli e interpretato da Gianpaolo Morelli 4 nuovi episodi che vedono alla regia ancora una volta i manetti Bros Una coproduzione Rai Fiction, Vela Film, prodotta da Tommaso Dazzi, produttore associato Maurizio Tini Ispettore Coliandro 7 episodi nuove indagini attendono Coliandro Nei nuovi episodi in onda da mercoledì 14 novembre in prima serata su Rai 2, ritroveremo Coliandro coinvolto in rocamboleschi gialli urbani e ancora una volta l'ispettore finirà per cacciarsi nei guai affrontando il mondo del crimine Naturalmente Coliandro non sarà da solo in queste nuove rocambolesche avventure, visto che potrà contare su tantissimi personaggi che hanno contribuito al grandissimo successo della serie televisiva nata 15 anni fa e è diventata un vero e proprio cult del piccolo schermo Punto è un'icona, un cult. Prova a mettere ordine nella sua vita ma più ci prova più si ingarbugna Torna l'ispettore Cancelletto Coliandro il Cancelletto 14 novembre su Chiocciola Rai 2.La trama della 7 stagione e il caso Ufficio stampa Rai Chiocciola Rai Ufficial News November 13, 2018 Ispettore Coliandro 7 cast nel cast della settima stagione dell'ispettore Coliandro Oltre a Gianpaolo Morelli nel ruolo del protagonista, ritroveremo Paolo Sassanelli Gamberini Giuseppe Soleri Gargiulo Veronica Lougen La sostituto procuratore Longhi Alessandro Rossi capo della squadra mobile del Gian Caterina Silva e Benedetta Cimatti Le colleghe Bertaccini e Buffarini Luisella Norari l'esperta vice dirigente della Polizia Scientifica Durante i vari episodi non mancheranno poi personaggi molto conosciuti come Iva Zanicchi, Francesco Pannofino, Claudia Gerini, Serena Rossi, Gianmarco Tognazzi, Paolo Calabresi.Nelle nuove puntate Coliandro sarà di volta in volta alle prese con la Yecaso, la temibile mafia giapponese, con una vecchia conoscenza come Giacomino, accusato per una serie di brutali omicidi, con l'assassinio di una giovane cantante di liscio e con i problemi della misteriosa scomparsa di un immigrato clandestino legata allo sfruttamento della manodopera agricola.Sullo sfondo di una Bologna che diventa un luogo emblematico tra realtà ed action Morelli barra Coliandro riporta in scena uno dei personaggi televisivi più amati con nuove avventure alla scoperta del lato più pulp dell'Italia di oggi.L'appuntamento con Ispettore Coliandro 7 e da mercoledì 14 novembre in prima serata su Rai 2 Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!